Un piede davanti all'altro, lungo freschi sentieri o strade assolate, un passo dopo l'altro per risvegliare i sensi e liberare la mente, per turismo o per fede, alla ricerca dello stato di grazia. Mont Saint-Michel, Santiago de Compostela, i cammini di San Francesco, la via francigena, padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini ci portano in cammino. Lunedì 15.05 RAI 3